Primo appuntamento con la nuova edizione della festa dei nonni di Alto Pascio. Oggi pomeriggio è un piazza ospitalieri, ballo e brindisi per ricordare e ricordarsi l'importanza dei nonni nella società moderna. Con le mamme che sempre più lavorano a pieno ritmo, sono proprio i nonni a colmare spesso le carenze delle strutture scolastiche, guardando i bambini e tramandando loro le tradizioni familiari. Ogni anno abbiamo l'abitudine di festeggiare i nonni che sono i veri angeli custodi della società perché in realtà tutte le famiglie si appoggiano ai nonni, tutti i genitori che lavorano si appoggiano ai nonni e i nonni sono sempre più una risorsa per le famiglie che noi vogliamo festeggiare e vogliamo ringraziare di cuore per l'aiuto che ci danno quotidianamente. Anche perché sono portatori dei veri valori, dei veri valori della famiglia, i veri valori su cui è basata la società italiana e la società cristiana. E per questo noi ci teniamo come amministrazione comunale a rinnovare il nostro ringraziamento a tutti i nonni d'Alto Passo. E ci ritroviamo qui con una semplice festa, una merenda, un brindisi insieme, proprio per festeggiare in un abbraccio collettivo tutti i nostri nonni. Un ballo e un brindisi. I prossimi appuntamenti per festeggiare i nonni sono previsti in via Maiaconi venerdì 12 ottobre con gli amici del ballo alle ore 15.30 e sabato 13 con la tombola organizzata dal gruppo Oasi. I prossimi appuntamenti per festeggiare i nonni sono previsti in via Maiaconi.